Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi del telegiornale la dedichiamo all'insedimento del nuovo comandante del reparto territoriale dei carabinieri. Si tratta del Maggiore Antonio De Rosa, prende il posto di Valerio Marra, trasferito a Roma. Si è ufficialmente insediato il nuovo comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Gela. Si tratta del Maggiore Antonio De Rosa, 43 anni, nativo di Firenze, arriva dalla compagnia di Santa Margherita Ligure, prende il posto dell'omologo Valerio Marra, trasferito a Roma, dove dirigerà il comando per la tutela del patrimonio culturale. Io ho avuto un'accoglienza splendida, molto calorosa. Sicuramente l'impegno che vengo a coprire è molto impegnativo, però sono certo che mi troverò bene sia dal punto di vista ambientale sia perché ho la fortuna di trovare un reparto efficiente che chi mi ha preceduto ha potuto rodare in questa maniera. E quindi penso che potremo lavorare bene con la collaborazione della cittadinanza per garantire sempre maggior sicurezza e tranquillità a questa città. A proposito, cosa ne ha lasciato il suo predecessore? Mi ha lasciato tanti buoni ricordi di questa esperienza vissuta, sia per la gente che ha trovato, sia per quanto riguarda i rapporti interistituzionali che sono ottimi, che sono fondamentali per poter lavorare bene. Una città difficile, Gela. Le chiedo quali sono le emergenze da inseguire e sulle quali state lavorando? Guardi, è una città che ha tutto un background storico relativa a criminalità organizzata. È chiaro che lavoreremo in maniera incisiva anche su questo aspetto. Però è una città che vedo che sta sbocciando anche per quanto riguarda la criminalità predatoria, quella più percepita dai cittadini. Quindi il nostro impegno sarà anche rivolto a questo aspetto. Un altro aspetto fondamentale che seguirò, seguendo anche quello che ha fatto chi mi ha preceduto, è quello del contatto con le scuole. Perché bisogna guardare al futuro, guardando alla formazione delle nuove generazioni. Quindi sarà molto stretta la collaborazione con i dirigenti scolastici e con tutte le altre istituzioni che si prodigano per il futuro di questa città. Numerose operazioni negli ultimi giorni anti-droga, scoperte tante piantagioni di canapa indiana. Lei chiedo, se c'è una vendita vuol dire che c'è una richiesta? Assolutamente. Purtroppo anche in quest'area abbiamo constatato che c'è una grandissima richiesta di droga. E peraltro il fatto che venga prodotta in quantità così cospicua consente anche di avere prezzi più bassi sul mercato e quindi agevola il fatto della vendita. Stiamo appunto battendo su questo campo. Questa settimana abbiamo avuto già tre notevoli operazioni da questo punto di vista con la scoperta di tre piantagioni e stiamo continuando a farlo perché la zona, abbiamo visto, è molto florida da questo punto di vista. Denunciare ogni forma di illegalità, il Maggiore della Rosa si rivolge direttamente ai gelesi. È fondamentale la collaborazione tra i cittadini. Se vogliamo cambiare lo stato delle cose è importante che la gente prenda fiducia nell'istituzione e si rivolga a noi e alle altre istituzioni per poter superare questa impasse. Intanto i carabinieri scoprono un'altra piantagione di canapa indiana nelle campagne di Riesi. Ci sono due gli arresti e ci sono anche altri episodi di cronaca. Vediamo. Padre figlio e manette a Riesi per coltivazione di cannabis indica. Li hanno arrestati i carabinieri. Si tratta di Giuseppe Palma, 61 anni, e di Andrea Palma, 34. Quest'ultimo deve rispondere anche di porto opusivo di arma comune da sparo. Nel corso di un servizio preventivo svolto nelle campagne dell'Ariesino, in Contrada Cipolla, i militari sono stati attirati dalla presenza di un particolare sistema di irrigazione che serviva una piantagione di colore particolare all'interno dei mandorleti della proprietà dei due congiunti. I carabinieri, dopo un apposito servizio di osservazione, hanno sorpreso il proprietario dello stesso intento a coltivare all'interno del fondo 13 piante di marijuana già alte oltre due metri e con le infiorescenze bene visibili e pronte alla potatura, individuando poi anche il figlio che ha confermato di occuparsi della coltivazione assieme al padre. Dopo aver esteso la perquisizione alla casa rurale, i militari della stazione di Riesi hanno rivenuto oltre 4 kg di sostanza stupefacente già essiccata e pronta allo spaccio, un fucile con due cartucce in canna pronte all'uso di proprietà di Andrea Palma che veniva illegalmente portato in un luogo diverso da quello di legale conservazione. I due sono stati ammanettati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria di Sena in attesa di giudizio. E sempre a Riesi i carabinieri hanno arrestato Salvatore di Prima 36 anni per coltivazione di canapa indica. In Contrada Figotto sono stati rinvenuti circa 60 piante di canapa indiana alte fino a due metri, arrivate ad un ottimo livello di maturazione con foltissima infiorescenza. La sostanza coltivata, se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 100.000 euro di provento. Il tavolo tematico Aree Verdi, Spazi Urbani e Mobilità attivo all'interno del progetto Cantire Gela ha incontrato i cittadini interessati ad adottare in via sperimentale le aree verdi di via Morselli. Alla riunione, oltre a residenti, ha preso parte anche l'assessore ai lavori pubblici Flavio Di Francesco, il quale ha subito sposato l'iniziativa e si è prontamente attivato per predisporre interventi di pulizia e manutenzione delle zone interessate dalla sperimentazione. I residenti presenti all'incontro hanno accolto favorevolmente l'iniziativa e si sono impegnati a garantire la pulizia e la cura ordinaria delle zone adottate. Lo scopo del progetto è quello di testare sul campo l'efficacia delle iniziative di collaborazione civica, appungolando il Consiglio Comunale ad adottare in tempi brevi e certi il progetto di regolamento delle aree verdi consegnato da Cantire Gela alla Civico Consesso lo scorso maggio. Il prossimo 29 settembre l'amministrazione comunale e il tavolo tecnico aree verdi, spazi urbani e mobilità consegneranno ai cittadini, in occasione di una cerimonia ufficiale, le aree adottate. È previsto per sabato 17 settembre prossimo alle 18 nella sala Don Pino Puglisi della Casa del Volontariato di Gela in via Ossidiana il convegno Dignità, Sovranità e Moneta promosso dalla Casa del Volontariato, dal CESVOP, dalle associazioni Formica Operosa, Servirti, Fenice del Sud, Gela Famiglia, Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo, Sete di Giustizia e Qui Europa. Relazioneranno Sergio Basile, presidente di Sete di Giustizia e direttore di Qui Europa e Nicola Arena, componente della Scuola di Studi Giuridici e Monetari Giacinto Auriti. Il convegno sarà moderato da Rocco Pardo dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela. Sarà presente anche il Vescovo di Via Salmedina, Monsignor Rosario Gisana. Russello, il neopresidente dell'Archeoclub d'Italia, sede di Gela, vi preparate per un evento molto interessante da un punto di vista storico che si svolgerà il 13 e 14 settembre prossimi. Ci vuole raccontare un po' quale sarà la scaletta, come sarà articolata la serata e l'evento e dove si svolgerà? Sì, sì, questa è un'idea che mi porto dietro da tanti anni, che l'ho visto già realizzato a Piazza Navona a Roma ed era una proiezione di fotografie giganti su una parete naturale. Nella parete naturale abbiamo scelto la facciata laterale della Chiesa Madre perché si presta come ampiezza allo scopo. Poi il Sagrado è ampio, vicino c'è la via e questo evento, che sarà la storia di Gela proiettata e faremo spettacolo con la cultura della storia di Gela, avrà degli spazi diversi e necessari per questo avvenimento. Nel senso che ci saranno i sedili per chi è che si può mettere seduto e poi chi è che cammina sul corso potrà assistere alla proiezione che saranno anche accompagnate da delle musiche classiche di sottofondo. Questo avvenimento è dovuto grazie anche al nutrito e valido e spettacolare archivio storico delle immagini che ha il professore Mulè, il presidente che si è dimesso e io spero di sostituirlo in degna maniera. Lo spettacolo comincerà alle 21, però diciamo che è un loop, quindi anche coloro i quali dovessero arrivare un po' in ritardo avranno la possibilità di rivederlo da capo. Il giorno saranno martedì 13 e mercoledì 14, anche perché ci sono i manifesti in giro, iniziarà alle 21 e 30. E così chi non lo può assistere a una giornata, assistere anche all'altra giornata. Devo poi ringraziare il comune di Gela che ha capito questa novità, all'inizio l'hanno osservata un po' in modo particolare, non è mai stata fatta a genere, un tipo di evento sviluppato così, e ha capito il sindaco, il vice sindaco e gli eventi, e l'assessore Catania. E hanno capito e hanno dato il loro sponsor, il loro spattacino, senza contributo economico. Ci tengo a dirlo perché è un mio costume. Otto anni sono stato presidente della provincia dell'Ucima e non ho mai chiesto un sostegno economico, perché penso sempre di cavarmelo con le mie forze. Il comune naturalmente parteciperà, con il quattrocinio, del materiale necessario. Non abbiamo preso niente perché solo questo prestito, sedie, microfoni, proiettori, insomma sono contento perché io sono un pensione adesso come insegnante. I miei allunni mi vanto da quando sono a Gela, dal 1988, li ho sempre portati a tappe in giro per conoscere il loro paese, il nostro paese. E oggi ho questa occasione, in queste sere abbiamo questa occasione di farlo conoscere in un modo più spettacolare, più rilassante, più divertente, diciamo così. Dal 17 al 25 settembre prossimo esiterà Match It Now, la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. L'evento rientra nella cornice della giornata mondiale del donatore di midollo osseo che sarà celebrata in tutto il mondo proprio il 17 settembre. Anche Gela scende in piazza sabato 24 settembre in Viale Corte Maggiore a Machitella in collaborazione con la Croce Rossa, i VIP Clown di Caltanissetta e con il patrocinio del Comune i volontari di Admo Gela, presieduta da Giacomo Giurato, e di Adoces Sicilia Ollus, l'associazione donatori cellule staminali da cordone ombelicale che proprio a Gela, alla società regionale, presieduta da Carmela Callri, accoglieranno tutti coloro che vorranno ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche. Appuntamento, lo ricordiamo, nella zona Muretti di Machitella. Una giornata di festa all'insegna della solidarietà, un momento piacevole che si ripete ogni anno. La sezione gelese dell'unità Alsiglieri è stata presente al raduno di Auto d'Epoca organizzato dal Veteran Motor Club, appuntamento in piazza Umberto I. L'iniziativa è stata benedetta dal parroco della Chiesa Madre, grazie all'abiso. Lo scopo è sempre lo stesso, che è quello di dare la possibilità a questi ragazzi con diversa abilità di conoscere innanzitutto il mondo delle auto d'epoca e nello stesso tempo, dopo averli fatti salire sulle auto d'epoca, dargli la possibilità di fare un giro per le vie principali della città. Io voglio ringraziare a nome mio personale di tutta l'associazione dell'Unità Alsigli, il presidente e tutto il consiglio degli amici del Veteran Motor Club che hanno partecipato a questa manifestazione o comunque meglio che hanno reso possibile questa manifestazione per l'undicesimo anno. Non da meno voglio ringraziare anche tutte le forze dell'ordine, dalla polizia, ai carabinieri, ai vigili fuoco, alla polizia municipale, alla guardia di finanza, che hanno reso disponibile questa giornata. Non avevo dimenticato anche di ricordare quelli della Capitaneria di Porto. Per noi è un onore partecipare a questa giornata dedicata ai ragazzi. Sono dei ragazzi meravigliosi, con le loro difficoltà, ma noi vogliamo regalare un giorno, fargli conoscere il nostro mondo, fatto di auto, fatto di motore, di odore di benzina, eccetera. Che dire, i ragazzi so che questa giornata l'aspettano ogni anno e ce lo chiedono con insistenza di fare questa giornata dedicata a loro. I ragazzi della locale sottosezione dell'unità Alsea hanno avuto la possibilità di conoscere il mondo delle quattro ruote e sono stati accompagnati in un breve tour. È una bellissima giornata, il sole c'è, è stupenda. Adesso facciamo questo giretto in macchina, poi andiamo a pranzo. Grazie agli organizzatori, naturalmente, è tutto ok. È l'undicesimo anno di raduno che Veteran Motongleb organizza per noi diversi vendabili nella sottosezione di Gela, nell'unità sottosezione di Gela. E queste giornate si dovrebbero fare, non dico sempre, ma quasi sempre. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10, questa sera alla 21. Il nostro ospite sarà il pianista Alberto Ferro. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Vi ricordiamo inoltre che domani alle 21 trasmetteremo la registrazione della decima edizione del Festival del Golfo. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico. Nostro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e non, cassete audio e video, floppy disk, cd, tvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetiche, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolvi, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Eccoci, seconda parte del telegiornale, la sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ollus di Caltanissetta organizza a Gela uno screening oculistico gratuito con la collaborazione di un oculista e con l'ausilio delle apparecchiature in dotazione ad una unità mobile oftalmica allo scopo di sensibilizzare la comunità sull'importanza del controllo periodico e la salute degli occhi. L'unità mobile è messa a disposizione dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ollus e presente in Piazza Umberto I oggi, domani e mercoledì. Le visite saranno effettuate gratuitamente da un medico oculista a chiunque si presenti dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Vincita record di 50 mila euro al bar della stazione di Gela la fortuna ha bocciato una donna che poco prima aveva acquistato un biglietto grattevinci maxi miliardario da 20 euro. E ora parliamo di calcio, il Gela diverte, ieri 4-0 in casa e secondo posto in classifica nel campionato di Serie D. La furia del Gela si abbatte sui calabresi del Sersale, finisce 4-0. Nella seconda gara della stagione in Serie D, la prima davanti al proprio pubblico la squadra bianca azzurra di Pietro Infantino domina in lungo e largo spegnendo sul nascere le speranze della formazione allenata dall'ex difensore del Gela Renato Mancini. E pensare che i padroni di casa arrivavano all'esordio casalingo con diversi giocatori al debutto con la maglia bianca azzurra e che non avevano giocato nemmeno un solo minuto con il resto dei compagni di squadra. Eppure tutto questo in campo ieri non si è visto. L'esperto difensore Gambuzza, l'attaccante Kosovan e poi nel secondo tempo anche il giovane Bonanno si sono trovati a meraviglia con i loro nuovi compagni di squadra. Merito dal tecnico Infantino che ha saputo mettere in campo una formazione e un modulo, il 3-4-3, che ha esaltato le caratteristiche dei suoi uomini e che ha messo subito sotto gli avversari usciti rastornati già alla fine del primo tempo dalla furia di Bonaffini e compagni. Un Gela bello da vedere e quadrato che ha messo in campo quella fame di successo che tanto piace all'esigente pubblico di Fede Gelese che a fine gara ha applaudito a lungo i propri Benemini. 3-0 già alla fine del primo tempo dunque. Partita che si è messa subito in discesa al ventesimo grazie al gol del capitano Bonaffini sempre pungente sotto porta e mai banale nelle sue conclusioni. Al venticinquesimo Nassi si mette le mani ai capelli per aver sfiorato di testa la rete del 2-0. Raddoppio che arriva 5 minuti più tardi con un bravo Montalbano, davvero ottima la prestazione del poliedrico giocatore di Siculiana che mette dentro la sua prima marcatura in bianco-azzurro. Il 3-0 arriva al trentasesimo ed è un capolavoro del difensore goleador Fabio Campanaro, gelese docche che fa esplodere il pubblico del Presti con una rovesciata da cineteca. Il Sersale non pervenuto salva una punizione dalla distanza battuta da Russo con il giovane portiere del Gela Moreno Saitta bravo a distendersi e deviare a lato. Nella ripresa poi la musica non cambia con il Gela che viaggia sul velluto e che mette in cassaforte il risultato mettendo dentro la rete del poker con Kosovan anche egli alla sua prima rete con la maglia del Gela. Il tempo di vedere altre due nitide occasioni questa volta sventate dall'estremo difensore del Sersale con Nassi che si dispera per non aver centrato l'appuntamento con il gol. Il palo del neo entrato Tommaso Bonanno e il colpo di testa ravvicinato di Bulades che cala il sipario sulla prima convincente gara della squadra gelese nel torneo di quarta serie. Gela che domenica prossima sarà impegnato nella difficile trasferta in terra messinese contro il Due Torri. E a fine partita Flavio Centamore ha raccolto le dichiarazioni dei protagonisti. Mi aspettavo un Gela così agguerrito perché giocava soprattutto in casa e con un pubblico del genere quindi aveva la spinta in più. La cosa strana è che non mi aspettavo la nostra squadra che subisse questo colpo subito nel primo tempo. Abbiamo fatto 20 minuti penso che abbiamo tenuto il Gela abbiamo tenuto il campo e poi il buio. Dobbiamo lavorare. Siamo una squadra che cerchiamo la salvezza il più presto possibile e bisogna lavorare. No, non mi aspettavo un Gela così aggressivo dopo 40 secondi anzi forse pensavamo che il Gela pensavamo che il Gela un po' teneva palla non era così aggressivo devo essere sincero cioè dobbiamo essere un po' sinceri pensavamo che il Gela dopo il 2 a 0 cercava di un po' di amministrare un po' la gara invece merito a loro con l'aggressività che hanno avuto già dall'inizio. Il merito va a queste ragazze si stanno applicando si scrivono le indicazioni questo è sintomo che questa squadra vuole essere protagonista in questo campionato noi con grandissima umiltà diceva un tuo collega noi abbiamo preso gente che ha fame come la piazza di Gela vuole uscire da queste da queste categorie noi non non promettiamo niente alla gente l'unica l'unica promessa che ci siamo fatti noi e vogliamo fare la città è quella che ci impegneremo sempre al massimo come abbiamo fatto oggi dicevo che il nostro spirito è quello tra virgolette del disperato quello che vuole ottenere a qualunque costo una una prestazione e noi con questa caratteristica sicuramente questa categoria possiamo fare possiamo dare soddisfazione al nostro presidente alla nostra agenda un gol veramente da cineteca guarda ancora non l'ho visto quindi i miei compagni squadra mi hanno detto che ho fatto un grazioso gol però l'importante sono stati tre punti dare un seguito al risultato buono di Pomigliano il rammarico anche della scorsa domenica c'è perché se avessimo affrontato quella gara con questi uomini a disposizione credo che c'erano molte più possibilità di poter portare a casa quei tre punti però è andata così oggi abbiamo dato una grande risposta alla città è stato bello giocare di fronte al nostro pubblico quindi meglio di così oggi non poteva andare che gel è? è un buon gelo un gelo che mette anima e cuore su ogni pallone per tutti i 90 minuti noi non ci prefessiamo grandissimi obiettivi dobbiamo ragionare domenica dopo domenica e poi poi vediamo e nel campionato di eccellenza a debutto amaro per il terreno a Gela la squadra a Gelo Lossa è stata battuta per 1-0 nel derby con la Nissa il gol è stato siglato ad inizio del secondo tempo da strano su un calcio di rigore molto contestato nell'occasione è stato espulso anche il giocatore gelese Pizzo Leo i Gelo Lossi del tecnico Vedda sono sempre stati in partita rendendosi pericolosi in alcune occasioni cambiamo argomento la pagina dello spettacolo continua nel quartiere residenziale di Macchitella la rassegna dell'Edis Tramp promossa dal direttore artistico Francesco Castellana con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Tranito alla produzione tecnica mercoledì 14 settembre alle 22 si esibirà Anna Bonomolo accompagnata da Diego Spitaleri abbiamo concluso anche per oggi buon inizio settimana appuntamento alle prossime edizioni all'inizio e alla prossima Grazie a tutti.